Ciao ragazzi, bevuti in questo nuovo ce lo mi manca, bevuti nel quarto ce lo mi manca, 2k23, 2k24 Siamo contentissimi che questa serie sta andando avanti quest'anno, potrebbe essere questo l'ultimo episodio? Ma no, perché voi lascerete tanti like qui sotto, commenterete in tantissimi e quindi andremo avanti con la serie Comprerò un altro box, però questo dipende da voi ragazzi, veramente dovete lasciare il massimo di supporto Non che non lo stiate facendo perché stai supportando tanto, lo ammetto Però superiamo qui sotto 500 like immediatamente e vado a comprare oggi un altro box Costa parecchio, come vi dico sempre, non posso permettermi questa serie perché è costosissima, però per voi questo è altro Allora, l'ultima volta con il ce lo mi manca extra large da un'ora siamo arrivati fino a Sassuolo Quindi andrei già lì, andiamo dritti verso il Sassuolo e iniziamo Il nostro ce lo mi manca, la particolarità di questa serie qual è? Non è niente di particolare perché semplicemente io incollo le figurine Magari anche altri lo fanno, ma ciò che è particolare in questa serie è che io, è come se parlassi con un amico con voi Mentre incollo le figurine, molti trovano rilassante, come passatempo, magari mentre fanno qualcos'altro Facendo eccetera, e mi fa molto molto piacere Per cui mi fa piacere essere il vostro passatempo E poi con le stronzate che dico in questi video di 50 minuti Perché capite che in un'ora in cui parlo mentre incollo le figurine immaginate cosa posso arrivare a dire Cioè, per chi segue la serie sa di che cosa parliamo, di tutto poi alla fine tranne di pallone Però, questa è un'altra storia, perché sono già andato alla serie B? Cioè, mo abbiamo iniziato e già non ci capisco niente Immagino fra un'ora, quando finiremo di incollare tutte queste figurine Immagino quello che possa uscire Allora, Sassuolo, Sassuolo, vediamo un pochettino quanti ne abbiamo Abbiamo attaccato tutte fino a qui Ancora, ovviamente, di completare squadre di serie A non se ne parla, ovviamente Magari quando apriamo l'altro box poi potremo fare qualcuna Però, secondo me, andremo a completare diverse di serie B Vediamo un pochettino quanti ne abbiamo D'altro, già alcune incollate, Sassuolo, vedo, eh Nemmeno troppo poche, in realtà Eh, ne abbiamo abbastanza Ne abbiamo abbastanza Ne abbiamo abbastanza Non credo, ovviamente, competeremo Ma giusto così, solo un box abbiamo aperto Mattia Viti, 4 e 41 Non vedevo l'ora di incollare le figurine Veramente, stavo aspettando il momento giusto per fare questo video Perché, comunque, capite che un'ora di registrazione non è poco Deve essere anche il momento giusto che non sei troppo stanco Perché, altrimenti, anche se sono le nove di sera E ho andato in palestra, mi sono svegliato presto stamattina Sono stato commercialista, eccetera Per cui, capite che, in realtà, non è stata proprio una giornata tranquilla Però, eh, mi rilasserò così Mi rilasserò così con voi Eh, tranquillamente Parleremo di fatti nostri Tra l'altro, sarò in compagnia davanti Tengo la partita Perché sta giocando Cioè, ancora non sta giocando Fra pochissimi minuti Inizierà Inter Eh, Genoa-Inter Bella partita, secondo me Vabbè, il primo tempo me lo vedo con voi E poi il secondo me lo andrò a vedere Di là o nel letto al calduccio Vediamo, vediamo Ci devo riflettere un po' Tre soldi Eh, tra l'altro Vabbè, dopo parlo delle partite che ho visto prima Intanto, parliamo un po' del Sassuolo Perché, appunto, stiamo attaccando le figurine del Sassuolo Parliamone un po', no? Vi trovate Torso detto 4,44 L'abbiamo attaccato prima No, l'avevo solo schippato Ok Sassuolo, ragazzi Sto facendo, penso, la stagione peggiore Degli ultimi 6-7 anni Penso Correggetemi se sbaglio Ma io un Sassuolo così Non me lo ricordo In questa difficoltà Con queste Pedersen 4,36 Già l'abbiamo attaccato Quindi il doppione Con queste difficoltà Io, ragazzi, veramente Non me lo ricordo Cioè Sassuolo che sta a 16 punti Ma Ci prova I gol li fa, eh Sassuolo segna Quasi tutte le partite Il problema è la difesa Che proprio non regge La difesa del Sassuolo Non regge proprio Spesso È vero, eh Non dipende solo dai difensori Perché La difesa comunque La fanno A partire dagli attaccanti Tantissimo i centrocampisti Caragno doppione Per cui Non è anche Mulattieri doppione Consiglio invece Si attacca E quindi Il problema magari Non è solo la difesa Perché Ferrari Per me È un ottimo difensore Però c'è Devi guardare anche A chi lo affianchi Perché tra i soldi Secondo me Non è che sia Il miglior difensore In circolazione In Serie A Per cui Se prendi Più di due gol A partita Nelle ultime sette Mi pare sei volte O sette volte su sette Ha preso Più di due gol Almeno Ogni partita C'è più di una domanda Da farsi Con la Sardiniana Addirittura ragazzi Ne prese due In 20 minuti Poi ha rimontato A due a due Perché L'attacco del Sassuolo È uno dei migliori Attacchi della Serie A Cioè Berardi Lauriente Ha un sacco Di giocatori Fortissimi In attacco Però la difesa Ragazzi Veramente Fa acqua Da tutte le parti Cioè È incredibile Col che prende Sempre Sempre Con chiunque Con chiunque Prende un sacco di golle Poi c'è l'attacco Che fa paura Guardate Adesso Tanto siamo vicinissimi Al mercato Quindi immagino Perché Sassuolo Ha le potenzialità Economiche Immagino Che faranno Tanto Un sacco di figurine Anche del Torino Immagino Faranno tanto Perché Cioè Veramente Sassuolo Non dico che rischi La retrocessione Ma Cioè Non prevedo Una stagione tranquilla Se Se continua così Anche perché Ha fatto due vittorie Di fila Con Inter E Juve Cioè Robbe veramente Clamorose Pensate Se non avesse fatto Quelle due vittorie Adesso Come si troverebbe Cioè Pensate Se non avesse vinto Con Inter Juve Cioè Le due partite Più difficili Contro Prima Seconda Ad altro Di fila Cioè Immaginate Come si troverebbe Sassuolo Incredibile Sassuolo Una squadra Stranissima Perché poi Se vinci Con Inter E Juve Cioè Le potenzialità Ce le hai È vero pure Che Berardi Sta saltando Un sacco Di partite Ma ci dovrebbe stare Le prossime Le ultime Da giocate È vero anche questo Che Berardi Sicuramente Il più forte Del Sassuolo Il più importante Il capitano E sta saltando Parecchie partite Quest'anno Però poi Cioè Non è che se manca Berardi Se pigliano Sette partite Di fila Due gol A partita Che poi Ripeto C'era anche Berardi Molte Per cui Boh Però Veramente La situazione Nera Mai Come l'Udinese Perché l'Udinese Si trova Anche malissimo Io Anche dall'Udinese Come Sassuolo Più Sassuolo Però l'Udinese Anche Mi aspetto Assolutamente Una grande ripresa Nella seconda parte Del campionato Perché adesso Sta 13 punti Malissimo Anche l'Udinese Ragazzi Vabbè Non come Sassuolo Ma anche l'Udinese Gli ultimi tre anni L'Udinese Ha fatto benissimo Veramente L'anno scorso Per una settimana Sta addirittura Prima in classifica L'anno scorso L'Udinese Era fortissimo Quest'anno Ma Non capisco Come faccia Sta così pochi punti Vabbè C'è da dire Che l'Udinese Ha fatto però Cassa Con Beto Ha fatto Molte cessioni Secondo me Non le ha rimpiazzate In modo giusto Però Ha fatto Cassa E quindi Buongiorno Doppione E quindi Comunque avrà Tranquillamente La possibilità Di rifarsi Col mercato Poi Di Di gennaio Adesso Anche perché Scusate Io controllo Perché ho sempre Laura che succeda Qualcosa Che non debba Succedere Avrà la possibilità Assolutamente Poi Di rifarsi Del mercato Di gennaio A parte che Ha un ottimo Direttore sportivo Per palo Per palo marino E per cui Saprà le scelte Saprà le scelte Giuste da fare Ma Poi Comunque Ha anche Una buona società Solida Economicamente Forte Quella è una doppia società Anche se Anche il Watford Del retrocesso Però Comunque in Premier Ci vogliono fondi Diversi Da quelli della Serie A Il Torino Sapete che forse È quella che siamo messi meglio Lo sapete Sassuolo Ce ne mancano di più Sì il Torino Solo 4 giocatori Dietro anche Completiamo Adesso Beh Torino Forse La squadra di Serie A Dove siamo messi meglio Manca ancora l'Udinese Non so come siamo messi L'Udinese Ma il Torino Per il momento È quella dove siamo messi Assolutamente meglio Torino che Oggi è andato a perdere La Fiorentina La partita di prima Che è stata poco fa Ha perso la Fiorentina Negli ultimi minuti Non ho visto la partita Perché ho visto Napoli-Monza E sto rosicando Perché Ci serviva il gol Di Pessi Del Monza Per Per prendere lo step Perché È appassionato Per la Serie Da 10 a 1000 Lo sa Però Purtroppo Pessina Ha sbagliato il rigore E rosichiamo Rosichiamo parecchio Molto 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 Rosichiamo Oggi Udinese Abbiamo attaccato Solo 4 giocatori Dietro Niente Oggi Non ne abbiamo Come il Torino Però Ne abbiamo Dai Ne abbiamo Ci abbiamo innanzitutto Lo stemma Già vedo Si investito Subito Lo mettiamo via Attacchiamo lo stemma Innanzitutto Vai Vai Con lo stemma Numero 481 Stavo parlando Appunto Prima L'Udinese Mi aspetto Siete L'Udinese Nel Sassuolo Una grande Seconda parte Di stagione Poi Samras C'è un'altra Storia Perché pure Samras C'è le ultime E panchina Come se fosse Stato già venduto Quindi Mi aspetto Proprio Al 99% Che se ne vada Proprio Molto Molto Convinto Wallace Doppione Anche lui Mamma Su 4 Due doppioni 502 Toven Sì Mi aspetto Se ne vada Anche lui Anche perché L'Udinese Farà cassa Anche lui Lui I 20 milioni Di Beto Mi pare 20 milioni L'ha venduto A Beto All'Everton Mi aspetto Che l'Udinese Faccia veramente Un grandissimo Mercato di gennaio Con la situazione Che sta vedendo Preferito Magari Rischiare Di far male Questa prima Parte di stagione Pur di far cassa Al campiato Già iniziato Con Beto Probabilmente Era un'occasione Da non perdere E hanno preferito Appunto Rischiare E intanto Le è andata male Per il momento Però vi ripeto Si rifaranno Sicuramente La seconda parte Di stagione Senza dubbio Ha venduto L'attaccante Più forte De Lofeu È sparito Non si vede più E quindi Poi qualcosa Accade Cambia qualcosa In squadra Non è che Ti può andare Tutto bene Poi Daniele Padelli Attacchiamo anche lui Piol 4,84 Procediamo ad incollare Anche lui Assolutamente Eccolo qua Christensen Numero 491 Thomas Christensen Perfetto Ecco qui Ecco qui Andiamo avanti No aspetta Udinese Non l'abbiamo ancora finito Dobbiamo attaccare Quelli dietro Anche qui Completiamo dietro Però davanti Malino Malino davanti Ce ne mancano un sacco Anche la squadra Ce ne mancano veramente tanto Tra l'altro È il momento Del calcio d'inizio In Genoa Inter Partita Carina Secondo me È una partita carina Il mio pronostico È andato sugli angoli Dell'Inter Ma è una partita strana Allora L'Inter Come vi dico sempre È una squadra Per me Troppo troppo forte Quest'anno Veramente Troppo troppo forte L'Inter Quest'anno Però il Genoa In casa È devastante Cioè Ragazzi Genoa Parliamo di una squadra Che Come lo stadio Da 23-24 mila posti Ha fatto 22 mila Abbonati Ma di che parliamo Ma di che parliamo Io adesso non so I prezzi Dall'abbonamento Del Genoa Ma comunque Uno stadio Vabbè Genoa C'è da dire Anche più di mezzo Milione di abitanti Quindi Ci sta pure Però ragazzi 22 mila Abbonati Sono tantissimi Sono veramente Tantissimi Cioè Uno Non lo può trovare mai Biglietto A Genoa Perché sono tutti abbonati Come lo trovi Il biglietto E comunque La tifosera Genoa Tifosera Impressionante Attenzione Subito Attacco Dell'Inter Deviazione No 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 niente Deviazione Vabbè È perché C'è il calcitano Dell'Inter Quindi mi interessa E uno Ha proprio Sbagliato il tiro Mi chiedeva Completamente Gli esports Qua forse Completiamo la pagina Non so Questa qui Anche ci manca Sì sì Secondo me No No perché questa qui È doppione Quindi no Ce ne mancherà una Vabbè Torino E7 Ce ne mancherà Solamente una Solamente una E completiamo anche La pagina I serie A team Che sarebbe La serie A Dei videogiochi No La playstation Tra l'altro Conosco Di Gianni La serie A Non lo conosco Di persona Però So chi è Allora Player of the month Coach of the month No Quindi niente 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 Andiamo Alla serie B La femminile Quante abbiamo Della femminile Non so No Non completiamo Sicuramente Quante Quante Sono No Sono 5 Una Già L'abbiamo Attaccata Qui Sono in totale 3 5 6 7 8 9 10 La serie A Femminile Sono solo 10 squadre Possibile Ma Non lo so Non lo so Tra l'altro Squadre Pomigliano Come Vabbè Come ci può Sta Pomigliano Ma Particolare Pomigliano Femminile Sapete qual è La stessa ragione Della palla a volo Cioè Il modo del calcio Non lo so Perché Non ho mai seguito Il calcio femminile Però Palla a volo Basket Diciamo che un pochettino Cioè So So Perché comunque In famiglia Ho due pallavoliste Che giocherebbe Basket Lo ho giocato io Quindi Un pochettino So E Comunque le società Diciamo Il mercato femminile Richiede Un budget Nettamente Inferiore In tutti gli sport Nel calcio Non ne parliamo nemmeno Quindi Alcune società Magari Piccoline Che non si possono Permettere Di creare Una squadra Competitiva Per Alti livelli Maschile Si possono Permettere Magari una femminile Per i vari sport Basket Palla a volo Anche il calcio Il pomigliano Cioè Oddio Il pomigliano calcio Non l'ho mai sentito No Taccato l'Inter Al posto della Juve No aspetta Forse si stacca Sì Sì Che si stacca Godo 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 Meno male Possiamo risanare Possiamo risanare Almeno ci evitiamo Qualche critica Nei commenti Roma Roma Femminile Stavo dicendo appunto Non si possono permettere Di creare squadre maschili Competitive E quindi Provano ad investire Sulla Femminile Cercano di fare Una squadra forte Vi faccio un esempio Di basket Basket A battipaia Vicino Salerno Il basket Femminile In serie A Il basket Femminile In serie A E la maschile In serie D Quindi Capite Che Ma Vi dico questo Ma anche Moltissime società Di pallavolo Cioè in campagna Ci stanno Non so quanti Società Di pallavolo Che stanno In serie B Femminile Perché richiede Chiaramente Un budget Inferiore E quindi puntano Su quello Molto più Della maschile Emiliano Viviano Tra l'altro Sta facendo Gioca ancora in serie B A 15 29 39 anni Quasi 40 anni Viviano E fa il podcast No il podcast La Una trasmissione su Twitch Con Faina Con Erfaina E Balotelli Non vedo Io Twitch Sapete ragazzi Io Twitch Non ho mai visto Vi giuro Non ho mai visto Una live Su Twitch Che ci credete No Forse l'unica volta Che ho visto mezzare Su Twitch Era anni fa Quando c'era Guarda Ninja Su Fortnite Ma stavo alle medie Cioè vi parlo di Sei anni fa Cioè Per cui Io Twitch Non l'ho mai visto Vedo Però vedo Li spezzoni Poi no Delle live Su Youtube Tipo qualcosa del rosso Di Greenbound Tanto Me le vedo su Youtube O Sul TikTok Chiaramente Escono dei pezzettini Più piccoli Quindi Poi Qualcosa la vedo Però Guarda vediamo Vediamo se intanto Completiamo almeno Qua vedo che doppione Qua vedo che un altro doppione Quindi manco i giocatori Completeremo Al 100% Madonna C'ha due doppioni uguali La 526 Maiello Eccolo qua Stavo già sbagliando Maiello No No scusate Quello era Maita Maiello E Cozzi Ottimo Andiamo avanti Ancora a Bari 527 A Campora Questo qua È Del 94 Vabbè Ormai A 30 anni Non è più Per la serie A Però Era un giocatore Che non mi dispiaceva L'ho visto a Benevento E non mi dispiaceva Moracchioli Che è 2000 E Poi Aramo Aramo Che Ma Fece quella bellissima stagione In serie A Poi Completamente scomparso Non so se ha avuto infortuni Importanti Magari fatemelo sapere Nei commenti Perché Non lo so sinceramente Semma Del Brescia E del Catanzaro D'altro del Catanzaro Vedo che abbiamo Anche già attaccato la squadra Del Brescia Ah del Brescia Anche abbiamo la squadra Però Non so se completeremo Vediamo Semma del Catanzaro qui Vediamo qual è la prima squadra Che completeremo quest'anno Perché penso che una Oggi la completiamo Almeno una di serie B Può essere anche più di una Vediamo Quale sarà la prima quest'anno L'anno scorso Non mi ricordo Non mi ricordo Sinceramente Dovrei andare a vedere Il primo ce l'ho No il primo Quello è Tra l'altro Non mi ricordo 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 Ok Lorenzo Dickman L'uomo Lasciamo L'uomo L'uomo Serpente 535 Attenzione Perché se quella Non è il doppione Completiamo il Brescia Se quella Non è il doppione Completiamo il Brescia Come è la prima squadra Quest'anno Verifichiamo Moncini Vabbè ragazzi Verifichiamo Bella agenda Cioè non so Se se ne fanno Se lo conoscete Io lo trovo Di un cringe Veramente Quando vedo i suoi video Mi cringio In un modo A dir poco Clamoroso Tra l'altro Oggi Senti Lautaro Senti Lautaro Sta giocando Arnatovic Turam di nuovo Mamma Non so se avete visto L'assist Che ha fatto L'ultima giornata Contro il Lecce Arnatovic Chi era Forse Forse a Barella Che sia a Barella Mi sa Che assist Li fece ragazzi Incredibile Incredibile Catanzaro Asquara A doppione Vediamo se Completiamo anche Il Catanzaro Se non sono Tutte i doppioni Si può fare Secondo me Ci mancano tutte queste E completiamo anche Il Catanzaro Vogliamo vedere Vogliamo vedere Cazzeris Si chiama questo Madonna che nomi Da Dickman A Cazzeris Veramente Ma Sunas Tra l'altro due Greci E Verna Ok Andiamo avanti Vediamo Questa che è 541 Si ma Secondo me La completiamo Mi sembra Non aver visto Doppione Tra queste tre Bregnola Anche lui giocava Benevento Non ricordo La Ferdona Rum Ma lui Non me la posso Scordare A Salerno Giocava Con Coda E Iemmello Ok Iemmello Ex Foggia Andiamo 540 Situm Si ragazzi Lo completiamo Completiamo Brescia E Cananzaro Di fila Le due dietro Non le avevamo Completate Invece Qui Completiamo Tutte e due Della pagina Qui Scogna Miglio 538 538 B Stavo attaccando La 540 L'ho lasciata La metà Vabbè Continuiamo dopo Mi sono disfetto Un attimo Ovviamente Ok 538 B Van de Put No Che è qua Scusate Ok Ho sbagliato tantissimo Ma non ce ne importa niente Ho attaccato il resto Della 538 Alla 540 Vabbè Ma che ce ne importa a noi Che ce ne importa a noi C'è Cittadella E Como Cittadella Quanti ne abbiamo? Ne abbiamo poche Vedo che abbiamo anche lo steam E la squadra tra l'altro Squadra anche a doppione Semi Anche a doppione Rigorosamente Quindi Partiamo ad attaccare Le semi Sia di Cittadella Che del Como Ecco qua Cittadella E anche Il Como Perfetto Ecco qui Adesso Vediamo Se riusciamo a completare Non penso però Non penso perché vedo Che le figurine sono 4 E mi sembra Ne servono 5 Per completare la squadra Non ho visto Se ci sono doppioni Però Già Ecco Non vedo i portieri Quindi sicuramente No Doppioni non c'è Sotto tra queste Tra queste 4 Però Non vedo i portieri Quindi secondo me ci mancherà solamente quella dopo 546 A Amatucci 546 B 546 B Simone 546 C Carriero Ecco qui Perfetto Andiamo 547 A Tessiore L'altro Cittadella Ragazzi Sta facendo un filotto L'ultima l'ha pareggiata Sbriando un rigore Però Mi sembra È salita tipo Quarto Quinta In classifica Veramente Sta facendo Un sacco di prestazioni di fila ottime Mi sembra Stava tipo a 3-4 vittorie di fila Ma Bene Tanta roba Tanta roba Dopo diversi anni in cui si era spenta Prima la cittadella Il cittadella Era una squadra Sempre pericoloso In serie B Invece le ultime 2-3 stagioni Le ha fatte molto molto spenta E quest'anno Adesso si è risvegliata Vediamo quanto Quanto durerà 548 A Maestrello 548 B Claudio Cassano No Non penso sia il figlio di Di Antonio Non penso È un 2003 però Quindi Chissà Magari può essere Ma non lo so Come non abbiamo manco una No Secondo me le avrò messe dopo Secondo me Le avrò messe dopo Infatti guardate come mi conosco bene Le avevo messe dopo Ecco qui Ci abbiamo il Como La squadra c'è Qui No anche qui ci mancano i portieri Incredibile Non so se ci sono doppioni tra quelle Però sicuramente ci mancano i portieri Questo È poco ma sicuro Questo Ci abbiamo La squadra al completo Eccola qui Comoda l'altra squadra che mi stanno appunto a risalire più che mai Ha fatto uno squadrone Cioè Ha comprato Verdi E cioè per me se in serie B Compri Verdi Vuol dire veramente che Le hai spiegato che è un progetto per salire Cioè per me Verdi è ancora un gioco di serie A Assolutamente Hai comunque Verdi Cutrone Eh soggiore importanti eh Per la serie B Per la serie B soggiore importanti questi 551 A Eccolo qui Giannu Resto della squadra Vabbè sempre Sì l'ho visto Sempre stava il geno no Ah ma queste due le ho incolate malissimo Perché qua sto tutto storto Estremo a destra qui Eh qui sto tutto storto di incollarle Bellemo dove gioca a Bellemo Al Bari forse No No quello è bello Boh Non lo so 551 Ah questa qua è doppione Ok Allora la mettiamo via Ok si quindi non la completavamo Manco per questa Invece questa qui 553 che ci manca E quindi ce ne mancheranno ancora due Qui Qui Maluccio Cittadella invece Solo i portieri 553 qua B Eccone 553 C Simone Verdi Altro non so che sta facendo Se ha fatto già qualche gol L'assist Però so che è un gioco fortissimo A questo Indubbiamente Cosenza E Cremonese Andiamo A vedere Non so quanto durerà questo Ce lo vi manca Sinceramente Penso che Non so se durerà un'oretta Ma non credo proprio Che siamo a 25 minuti Secondo me In Massimo 40-45 minuti La finiamo Secondo me oggi Vedo che Già sta andando belle veloci Per cui Andiamo 559 A Giacomo Calò 500 Comunque Non vi lamentate Perché Quest'anno siamo già Prima ce lo vi manca Non mi ricordo di preciso Quanto abbiamo fatto Mi sembra 40 minuti forse Poi abbiamo fatto Quello da No anzi Il primo Già era di un'ora Poi ne abbiamo fatto No aspetta Mi sto confondendo Mi sembra ne abbiamo fatto uno Iniziale Già tipo 50 minuti Poi ne abbiamo fatto Uno da un'ora Un altro da un Ah no Questo qua è il terzo Allora non è il quarto Questo Questo qua è il terzo Sì sì Questo qua è il terzo Ne abbiamo fatto l'ora Uno da Quasi un'ora Uno da un'ora 10 minuti 2-5 minuti E poi c'è questo Che durerà Comunque abbastanza E poi se ne faremo Un altro Cioè se compriremo Un altro box Perché voi Continuete a supportare Tanto questi video Delle figurine Ne faremo almeno Altre due Penso uno da un'ora Ci uscirà Vabbè Dipende da voi Gennaro Tutino Anche lui secondo me Giovere veramente forte Per la categoria Uno a livello di Verdi Però Giovere fortissimo Alessandro Micai Anche lui Ex-Saver Nidana Lui Era un ottimo Ottimo Eccellente portiere Poi Gli è partita la testa Non so come sta andando Al Cosenza Però Gli partì la testa Salerno Nel senso che Faceva papere In continuazione In continuazione D'altro abbiamo anche Gli Stemi di Cosenza Cremonese Quindi anche Al Cosenza Ci mancherà Solamente una figurina Stavolta di giocatori Non di portieri Però anche qui Ci mancherà solo una figurina Andiamo alla Cremonese 566 A No Qui non completiamo sicuro Perché ci manca Anche la squadra Bertolacci Max Milan Ex Genoa Già nella Cremonese Bertolacci Non lo sapevo Cassagnetti E Colo Colo Questo qui Lo sentito in telecronica Alcune volte Colo Colo 562 Aspettate No la squadra non c'è Ok forse Completiamo i giocatori Sì Forse i giocatori Se non ci sono doppioni qua Li completiamo Però La squadra Ah no La squadra l'ho appena staccata Andrei ma dove vi Dormi Andrei dormi Ok la squadra l'ho staccata Però Allora forse ci mancherà Una figurina dei giocatori Penso Qui Sar Qua Bianchetti E Locosvili Eccolo qui Locosvili che si è portato dalla serie A Alla serie B Ecco qui Cremonese che anche stando forte Anche se mi sembra le ultime due Non so se l'ultima l'abbia vinta Però quella prima l'aveva persa Abbastanza male Con la squadra Ghiglione Anche lui Genoa Poi Cremonese E mo' in serie B Abrego Sì Se questa qui non è doppione Ce ne mancherà una Ok sì 564 ci manca Quagliata E ce ne mancherà una anche qui Stavolta gli attaccanti Franco Vasquez Coda E Zanimacchia Bell'attacco Bell'attacco a Riemonesi Vasquez Quanti anni c'ha Quanti anni c'ha Franco Vasquez Ferralpisalò Ferralpisalò Semidoppione Vediamo se riusciamo a completare La squadra c'è Poi due No solo due figurine Sicuro non completiamo Questa qui non è doppione Però ce ne mancheranno altre due 569 La squadra Al completo Eccola qui Perfetto Top 570A Pizzignacco Altro Non so C'è gioco fermo A Genoa Inter Forse per il fumo Perché non si vede niente Avranno accettato un sacco di fumogeni E non si vede niente Secondo me Hanno bloccato la partita Momentaneamente Penso sia proprio per questo Gaetano Letizia Lui ex capitano del Benevento Adesso avrà anche lui la sua età C'ha 34 anni E beh Sì L'età ce l'ha L'età ce l'ha Martella Anche lui Ha giocato in serie A Come c'è Pidelli Qui Pilati Mi sa che è ancora ultima in classifica Penso sia ancora ultima in classifica Qui ce ne mancheranno due Andiamo a vedere All'Ecco che combiniamo Vedo che c'è la squadra No Anche qui poche figurine però Tre Quindi se non sono doppioni Ce ne mancheranno due anche qui L'Ecco Mettiamo la squadra Eccola qui Penso sia bloccato da 5 minuti almeno Il gioco in Genoa Inter Che hanno acceso allo stadio Incredibile C'è Hanno bloccato il gioco per 5 minuti Perché non si vede proprio niente Niente Guglielmotti Reteghi tra l'altro in panchina Ancora non sta Non sta al meglio Ragazzi Reteghi Un buon attaccante C'è Veramente un buon attaccante Secondo me Per una Per una squadra di metà classifica Che lotta per la Una squadra che Ah L'ho rotta Vabbè Era tutta assorta La volevo mettere meglio Sta meglio così Si era addirizzata un po' almeno Però si è strappata Non ci interessa 576B 576C Eh ragazzi I gioco di serie B Sono difficilissime Perché sono piccoli E poi sei tutto storto Non ti riesci a regolare Cioè sono veramente complicati Questi da incolla bene Eh Sono veramente complicati Questi da attaccare bene Mi ci appiccico sempre Eccolo qua Luca Marrone Ex Juve Quanti anni c'ha Luca Marrone Eh pure lui è arrivato all'età 34 Non ha fatto una gran carriera Non ha fatto una gran carriera Ha girato Juve Verona Ma non ha fatto una gran carriera Marrone assolutamente Modena E Palermo Allora Cosa abbiamo del Modena Vediamo un po' Non tantissime La squadra d'altro Non ce l'abbiamo Forse se qua non ci sono doppioni Completiamo la squadra Ma Ah no Il partiere c'è Quindi forse Riusciamo anche a completare la squadra Di giocatori Ci mancherà solo la La squadra al completo Ci mancherà Quindi per il momento Abbiamo completato solamente Brescia Cittadella Che stavano nella stessa pagina Gli altri In un momento Ancora 0 Pensavo a qualcosa in più È vero che mancano ancora Un po' di squadre Però pensavo a qualcosa in più Per esempio Vediamo se dopo il Palermo Riusciamo a completarlo Intanto qua Attacchiamo Gagno Portiere del Modena Cotali E Kaus Anche lui Un nome particolare 500 Vediamo Se c'è il 584 Eccolo qui O Ukada Ukada Per Greffi Tra l'altro ragazzi In Genua e Inter Non ci crederete Ma il gioco È ancora Fermo È ancora Forse Stanno per riprendere Forse No No Anzi Non se ne parla proprio Ma il gioco è fermo Da più di 5 minuti Non mi ricordo Una cosa del genere Sinceramente Ma No Allora Io adesso Non so sentire La telecronaca Giustamente Perché sto parlando con voi Sto facendo il video Però Non Non so se È Per il buio O perché Non va l'auricolare Adesso forse Hanno risolto E procedono Non so se Non andava l'auricolare O O forse per il fumo Perché il fumo Mi sembra ci sia ancora Però riprendono O forse schierito un po' Ma Non so Non so sinceramente Non so Ponzi Qui solo una Vediamo Vediamo se il palermo Riusciamo a completare Ok forse Anderson Lui da dove viene Per il palermo Parma E anche qui Attenzione Perché vedo che ci sono già Due o tre Tre figurine Incollate Quindi può essere Che se abbiamo Un po' Di roba Possiamo completarla Ma Non abbiamo niente Praticamente Del parma In realtà Abbiamo solamente La squadra Ma Intanto Due squadre Quindi ci mancheranno Dietro Gli stemmi E due figurine Abbiamo già un sacco di roba Incollata E non ci resta niente Ma Strano Strano Pisa Andiamo direttamente al Pisa Quindi Ma Che dire Strano Molto strano Pisa Ecco qui La formazione è completo Anche se completiamo Ci mancheranno comunque Gli stemmi Qui Non abbiamo uno stemma Poi abbiamo 604 E doppione 605 Ci manca Mattia Valoti Lui Valoti ex Monza Penso di sì Se è lui Altrimenti Non so se è un altro Però forse Quello ex Monza E non è in serie B Ma Pisa Tra l'altro Pisa che Due anni fa Fece proprio la finale di playoff Col Monza E poi Spento Spento 603 Anche doppione Portieri Ci mancano Attenzione perché No Ci manca lo step L'ho già detto prima Tre volte circa E sì Ci manca la seconda Lo step Perché altrimenti La squadra L'abbiamo Completata Beruato ragazzi Questo era un giocatore Che tutte in serie A Lo volevano A meno così si diceva Dopo che fece Una finale Una buona serie B Che andò in finale E tra l'altro Se non sbaglio Di proprietà Un bel po' Un bel po' Un bel po' di roba Un bel po' di roba Devo dire la verità Un bel po' di roba Gli stemmini ce l'abbiamo La squadra ce l'abbiamo Quindi potrebbe essere Anche questa Si completa I portieri anche Li abbiamo Quindi le prospettive Ci sono Andiamo ad attaccare Prima di tutto la squadra Numero 608 Sono esattamente 3 Quindi significa Che se non ci sono Doppioni L'abbiamo completata Attacchiamo I portieri Bardi Con Marcandalli Eccolo qui E Romagna Filippo Romagna Perfetto 500 Allora Questa che cos'è? 612 ci manca Ma penso Le la completiamo Mi sembra che Non ci sono Non sono doppioni Le altre Quindi Dovremmo completarla C'era Ningoi L'anno scorso L'altro è arrivato Impresso La Serie Ha fatto tipo Mezza partita Vabbè Non era un ciò Della Serie Parliamoci chiaramente E Kabashi Ok Se questo è 611 E 611 Abbiamo completato Anche la Reggiana Quarta Squadra Di quest'anno Ottimo Ottimo Serie B E Vabbè Lo sapevamo Che ne completavamo un po' Luca Cigarini Ex Atalanta E Cagliari Mamma mia Quanti anni Ci ha Del Del 95 Ah no Questo è Cerningoi Cigarini Dell'86 14 38 Anni E beh L'età c'è L'età c'è Sampdoria Sampdoria Vediamo Perché abbiamo già Incolato 2 figurine La squadra Ce l'abbiamo Vedo questa Che è il doppione Dei portieri Quindi la mettiamo via Però attenzione Perché se queste 3 figurine Non sono doppione Completiamo anche la Sampdoria Sperò Sperò Non dobbiamo essere doppione Nessuna Vediamo Questa qui 616 E ci manca Ok Sono difensori Quindi ci serviranno Altri centrocampisti E attaccanti Murru Nicola Murru Eccolo qua E adesso vediamo Se questa ci manca Sì 618 Eh no Ancora portieri Ma dai Doppio doppione Incredibile Valerio Verre E Gerard Jepes E l'ultimo Viera Peccato Pensavo Ero abbastanza convinto Completassimo anche la Sampdoria Invece anche qui Ce ne mancherà una Vabbè Spezia 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 Delle mie brame Qui Ok Questi qui sono gli stemmi Attacchiamo un attimino gli stemmi 320 Spezia Non abbiamo attaccato nulla Qua invece Su tiro Già c'è qualcosina Ok Attacchiamo già la squadra E poi vediamo i giochi che abbiamo Non li ho presi Stanno ancora lì Eccolo qui La squadra completa Dello Spezia E vediamo quanti giochi che abbiamo Sono 5 figurine Quindi se non sono doppioni Completiamo Ma vedo già che sono doppioni Queste due Quindi questa la mettiamo via E ce ne mancherà una Ce ne mancherà una Perché queste qua Non mi sembra sono doppioni Mamma Dragoschi Non è in serie B ragazzi Dragoschi veramente Stanno facendo la serie B Incredibile Ma veramente fate Era il primo portiere della Fiorentina E sta in serie B A distanza di un anno Un anno e mezzo Ma Strano Pensavo se ne andasse Sinceramente A quanto parla Non ha avuto offerte O credeva che lo Spezia Risalisse subito Boh Tra l'altro Mezz'ora Genoa e Inter Vabbè sì Saranno più di 5 minuti Da recuperare Però Ancora 0-0 Ancora 0-0 L'Inter Ma io lo sapevo ragazzi Questa è una partita difficile Per l'Inter Io l'ho detto Il mio amico Mi aspetto più lo 0-0 Che che segni Entrambe Ho detto che poi l'Inter La vinceva 1-0 Ma Lo 0-0 Non me lo aspetto Infatti Non dei calci d'angolo Dell'Inter Perché poi mi aspetto A giocare un po' più Schiacciato Il Genoa Soprattutto nel secondo tempo Ci sa che all'inizio Parta forte Gioia in casa È sempre così Però nel secondo tempo Crolla spessissimo Il Genoa Quindi Mi aspetto Un secondo tempo Intensissimo Dell'Inter Sperando faccia per me I calci d'angolo Giustamente Non competeremo Lo Spezia Perché ce ne mancherà una Però andiamo Assù Tirol Tra l'altro siamo a 41 minuti di video Dai Un 50 minuti quasi Ci può uscire Un 50 minuti quasi Ci può uscire Sono contento per voi 632 Andiamo quindi già Direttamente con l'ultima Eh Buona occasione per il Genoa Buona occasione per il Genoa Non concretizzata 632B Odogu Odogu Come si legge Non lo so E Ultima Matteo Rover Perfetto Perfetto Ok Andiamo avanti Ci abbiamo 630 Che è Lonardi Bro Questa cosa si chiama Bro Con l'H finale però E Casiraghi Daniele Casiraghi 630C Attaccato Malissimo Veramente Malissimo Kofler Sto qui con la camera Non mi posso spostare Non mi posso spostare troppo Che devo fare ragazzi Non le attacco come voi Che sto così Ci sono anche I difetti qua Di questi video Avere un album Con figurine attaccate È malissimo Questo è il problema Anche la squadra Anche la squadra Non l'avevo Non l'avevo visto È secondo in classifica E vuole salire Peccato Io sono contento Se il mezzo sale Ci fece un favore Quindi siamo riconoscenti Però Le ultime due Veramente le ha buttate Le ultime due Le ha proprio buttate Come partite Con squadre facilissime 650A Ok La Fiorenzola La Fiorenzola 650B Gian Erminio Ecco qua Vediamo un pochettino Se andate attacchi Facciamo una cosa Attacchiamo prima tutti gli stemmini O no Non so Come vogliamo procedere Con le squadre Sono tantissime Da attaccare Facciamo prima gli stemmini Dai Mi rilassa un po' di più Mi piacciono di più Gli stemmini Come carte da attaccare Facciamo gli stemmini E oppure Dai No Facciamo prima le squadre Come ho detto Mi rilassano di più gli stemmini Quindi Facciamo prima le squadre Che sono tantissime E ci mettiamo almeno 10 minuti Secondo me Per attaccare queste squadre E poi andiamo con Con gli stemmini Concludiamo 681 Vabbè Giriamo Perché se no Se ne dobbiamo mettere Tutte in ordine Ci mettiamo un sacco 681A Catania Sto bene Intanto se fanno un angolo l'Inter Ma mi sembra proprio che Non abbiano intenzione Catania E Crotone Due squadre Catania Io sono cresciuto Catania in serie A Quando ero piccolo Catania È stato sempre in serie A E il Crotone Vabbè Gli ultimi anni Adesso proprio Ha fatto un declino Purtroppo Ma le squadre al sud Spesso e volentieri È così 656A Per Golettese 656B La Propatria Eccola qua Ah l'ha bloccata Propatria Perfetto Andiamo avanti 654A Il Novara Ecco qui 654B Il Padova Perfetto Ok Andiamo avanti Andiamo avanti Questa non l'abbiamo Sì l'abbiamo Sì l'abbiamo Purtroppo Attaccata Pergolettese E Propatria Questa è Minica Non avevamo messo Di là 386 Il Monopoli Sono stato due anni fa Monopoli L'estate Bella Cioè il paesino Carino Però il mare Vabbè mare è bello Ma non mi piace il concetto Quel concetto di mare Perché non sono spiagge Dove puoi giocare Fa Cioè sono spiaggette piccolissime In pietre Cioè non puoi fare niente Puoi solo fare il bagno Perché l'acqua è bella Però Cioè Preferisco andare dove c'è la spiaggia Che puoi giocare 648 Quello di ero doppione prima 248A Che L'Arzignano Valchiampo E Atalanta Under 23 Ci abbiamo Eccola qui T'altro Avevo letto l'altro giorno Quello La frusione praticamente È A tutti i giocatori impressi Dalla Juve La Juve l'ha fatto La squadra frusione quest'anno E ho letto Ho letto un commento Sotto qualche post In cui c'era appunto Scritto questo In cui diceva Ma l'Under 23 La Juve Non giocava in Serie C Effettivamente Non è che È tutti i torti Quello che ho commentato così 684A Cioè Infatti secondo me È un qualcosa Anche di Ma La Juve che presta Quattro giocatori Che poi sono tutti Tolari e fondamentali Per il frusinone Secondo me Non è proprio Normale Come cosa Cioè Veramente Avere quattro Presidi Così importanti Da una stessa squadra Cioè Secondo me Non è una cosa Proprio Troppo Cioè Secondo me Non dovrebbe Non dovrebbe essere valida Secondo me È una cosa del genere Cioè Veramente Ti sei fatto fare la squadra Da un'altra squadra Le Serie A Cioè Mi sembra Che un altro po' Una doppia ruotà Praticamente Ma Cioè La metà dei gol De il frusinone Gliela ha fatti la Juve Sulle Caiorghe E No Cioè Però Cioè è fondamentale Per la Per il frusinone Cioè Di che parliamo È fondamentale Anche qui Doppione Messino e Cerignola 672 Vediamo che cosa Ci abbiamo Ci abbiamo Rimini E Sestri Levante Andiamo Ad attaccare Rimini E Sestri Levante 1919 Come la Sagernitana Andiamo avanti Renate E Trento Dove sono 659 659 A Eccola qui E 659 B Trento Perfetto Avanti tutta Sorrento Mi sembra già Una manicollata Sorrento Andiamo a vedere 689 No no Sorrento no Forse l'abbiamo trovata Per questo Quando l'abbiamo trovata Mi ricordavo E Taranto 689 A E B Abbiamo quasi finito Ci manca pochissimo Siamo a 49 50 Non penso Arriveremo un'ora Però in realtà Forse ci potremmo anche arrivare 669 669 A E B Voi penso Qualche pezzetto Che sarà tagliato Non ci arriverete Probabilmente Un'ora Per me Di registrazione Supereremo l'ora Forse Ok Andiamo avanti 653 Quindi dobbiamo andare Un po' indietro 653 Ok ci manca 653 A Il Lumezzane Ok E 653 B Mantua Sto vedendo un po' Cioè Sto vedendo un pochettino Alzo adesso ogni tanto Vedo che Il Genoa veramente Sta creando seri problemi All'Inter Come vi ho detto Però al primo tempo Consuma tante energie Poi vediamo il secondo Cosa riesce a fare Secondo me sarà Parecchio schiacciato Foggia Che l'anno scorso Ha perso la finale Dei playoff Pensate che è in B Con il Lecco 683 B Invece Ci abbiamo Il Giuliano Squadra del Napoletano Carrarese E Cesena 663 Stiamo attaccando Tantissime squadre Le C Veramente tantissime Cioè Sono un casino Eccola qui Carrarese E Cesena Perfetto 662 Ancora doppia L'abbiamo già messa prima 668 Ci manca Olbi Perugia Perugia Ha retrocesso L'anno scorso Penso sì Perugia L'anno scorso Ha retrocesso Dopo diversi anni Spal 674 Ci manca Abbiamo incollato Le stemmini Le squadre ci mancano Spal E Torres Ok Spal E andiamo A attaccare Anche il Torres Perfetto Andiamo Process Provercelli 657 Vediamo se Le abbiamo già Incollate o no 657 No ci mancano Le uniche squadre Ci mancano In questa pagina Poi vediamo Se con gli stemmini Riusciamo a completare Provercelli Ok Perfetto Di queste due pagine Come squadre Ci mancano Ci mancano solamente Vicenza E Salus Vediamo se ce l'abbiamo qui Ok Ce l'abbiamo qui Quindi queste due pagine Le squadre Abbiamo completate tutti Dopo vediamo Cosa riusciamo a fare Con gli stemmini Non penso Compriamo Tutta serie Qualcosa ci mancherà Sicuramente Però Vediamo Perché queste due pagine Sono complete Vediamo Delle altre due Cosa ci manca Perché sono in totale Tre no? Sì Sono tre in totale Allora Ce abbiamo qua 687 Picerno e potenza Ci mancano E completiamo anche Questa pagina qui Picerno e potenza Ok Questa qui Le sto attaccando Anche abbastanza bene Su Non vi potete lamentare Su queste Beh potenza Un pochettino male Manco l'ho detto Subito Ho fatto il mio Poi 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 Vediamo di questa pagina 678 Ce l'abbiamo? No Ok Di questa pagina Ce ne mancherà uno 365 Ce l'abbiamo Ok Ottimo Ottimo 65 ce l'abbiamo La Fiermana 665B Il Gubbio Ok 666 Anche questa qui Ci manca La Juve Next Gen Eccola qui La Juve Under 23 E intanto Signale l'Inter Arnautovic E La Lucchese Ok 659 Ah beh Questa qui L'abbiamo completata Quindi questa qua è doppione Perfetto Procediamo con gli 6 mini Le squadre Se le C ce ne mancano Solamente Una qua E una qua Due figurine ci mancano Le squadre Vabbè ci usciano Un casino di doppioni Se per esempio Abbiamo un altro box Adesso 6 e 55 Ok Andiamo ad attaccare Gli 6 mini 6 e 55 Si parte dalla Pergolettese Eccola qua Propatria Perfetto Pro Sesto Tutte Pro Tutte Pro E poi c'è anche la Pro Vercelli Come se non bastava Ecco qui Pro Vercelli anche Ottimo Andiamo avanti Qua cosa ci abbiamo 6 e 49 Perfetto Fiorensula Eccola qui Giana Erminio Anche questa qui ci manca Vicenza 6 e 49 C 6 e 49 D Legnano Salus Ok Vediamo se abbiamo anche la 6 e 52 In modo tale che completiamo Stavaggina qui 6 e 52 Perfetto E' proprio quella prima Qua che ci esce Quindi C'è Lumezzane Lumezzane Allora Lumezzane 6 e 52 A Perfetto 6 e 52 B Mantua 6 e 52 C Novara 6 e 52 D Padova Ok Quindi abbiamo completato Questa pagina Se abbiamo la 6 e 58 Completiamo anche questa E ci abbiamo come prima Ovviamente Il 6 e 58 Andiamo a completare anche questa qui Renate Ottimo Trento Ok Triestina 6 e 58 C 6 e 58 D Ci abbiamo Virtus Verona Perfetto Anche questa E' completata Vediamo adesso Cosa riusciamo a fare Con queste due Se riusciamo perlomeno A completare Ah no Vabbè queste qui ci mancano tutte Quindi dubito Completeremo 6 e 64 Ce l'abbiamo Sì ce l'abbiamo 6 e 64 Ok Quindi Fermana Innanzitutto Eccola qui La Fermana Ancora il Gubbio Juventus Next Gen Che stema particolare Guardate qua Particolare come stema Juventus Next Gen E Lucchese Perfetto Ecco qui Qua sta ancora registrando Fatemi fare un check Ok Non avete visto la mia faccia Per un bel po' di tempo Fatemi un attimino Fare Una Una situazione Vediamo il video così A sto punto Senza faccia Tanto non l'avete vista Finalmente Poi faccio l'altro Col telefono in mano Proprio Non siamo professionali 688A Sorrento Non so per quanto Non avete visto il video Però scusate Ma col telefono vecchio Che uso come cam Visiva Purtroppo Non so perché Si è scaricata Cioè È fila la memoria Ma Non so Per cui l'altra volta Ha fatto così Però l'altra volta ci stava Cioè c'erano più video Stavolta solo questo Ma Non lo so Non lo so 376 Allora 676A Messina Altro non supereremo l'ora Ma Veramente di poco Cioè Secondo me Arriviamo tipo a 55 minuti Io sto A 5740 Voi vedrete Un 55 Secondo me Forse anche qualcosina In più leggermente Avellino e Benevento Due figurine Alla fine di questo ce la mi manca Sto morendo 6667 Mi sa che è doppione Ah no Ci manca Ci manca Ok Quindi 6667A Olbia Perfetto 6667B Perugia 6667C Pescara Se si stacca Eccola qui Anche Pescara Anche Pescara ragazzi L'ho assistito Alla cavalcata Di Zeeman Con Immobile Verratti Insigne Mamma che ricordi Quella serie B La promozione Pescara in serie A 682A 682A Il Foggia Lo stema Il Foggia 682B Giuliano 682C Juve Stabbia Eccola qui 682C D Scusate Latina Ecco qua Perfetto Ragazzi Per questo video è tutto Per questo video è tutto Io spero sempre Vi sia piaciuto Vi ringrazio del supporto Ringrazio veramente tantissimo Se siete arrivati fino a qui Perché se subirvi Un'ora di me che parlo E in realtà con le figurine Non è da tutti Quindi vi ringrazio del doppio Iscrivetevi al canale Lasciate un like Io ho da vedere Genoa e Inter Anche se sta finendo il primo tempo E ci vediamo al prossimo video Supportate questa serie 500 like Iscrivetevi nei commenti Quali bomber Di questo album Vi mancano Ci vediamo al prossimo video Ciao